Ecco, andiamo bene, Tarzan con la bronchite. Eh, ma l'ho capito, ma la giungla è umida, eh. Ho capito, però ho un'entrata, capite? E vabbè, fa quello che si fa, eh. Vabbè, vabbè, e poi c'è Cita. 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 Che bella, Cita. No, scusate, è troppo. Io così non ce la faccio, però. No, neanche io, vengo, 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 che brutta, eh. Vabbere! Vediamoci una scimmia sicuramente più carina. Si gusta le patatine. Oh, sarà pure carina, ma quanto ingorda. Guardate questi due. Il gattino fa gli stessi gesti dell'amico umano. Incredibile! Sono davvero insimbiosi. Il birbantello spaventa la capretta. Ma lei gli risponde a tono. Quanto è appagante dare da mangiare agli animali. Ma dai, si è portato via anche la forchetta. Esagerato. Questo ragazzotto fa di tutto per spaventare il pennuto. Ma lui niente. E insiste. Lo so, lo so qual è il tuo pensiero. Sono proprio strani questi umani. Non esitate a mandarci i vostri esilaranti home video. Ne siamo ghiotti. Il gorgonzola Igor è irresistibile. Perché. Perché.